Torna alla Sapienza di Roma il Cardinale Matteo Zuppi che nell'Ateneo Romano aveva conseguito la laurea in Lettere e Filosofia e ci torna questa volta per ricevere il dottorato honoris causa in studi politici dalla rettrice dell'Università Antonella Polimeni. Il riconoscimento è stato assegnato per i meriti umanitari e sociali nel campo della cooperazione internazionale e dello sviluppo, meriti unanimemente riconosciuti e che hanno ampliato in maniera significativa la riflessione negli ambiti disciplinari del dottorato di studi politici, questa la motivazione ufficiale. La lezione magistralis ha avuto luogo nell'aula magna dell'Università ed è stata per il Cardinale Zuppi l'occasione per affermare la necessità e l'urgenza di una nuova collaborazione tra Europa e Africa. L'Europa non può abbandonare l'Africa ma deve appoggiarla in uno spirito di partnership. I due continenti sono legati da un principio di interdipendenza che deve essere considerato come una opportunità nel complesso mondo contemporaneo. Oltre alle questioni economiche c'è da inventare insieme un modello di welfare adottato al XXI secolo. In particolare il Cardinale si riferisce all'educazione e alla sanità gratuita per tutti come forma di giustizia. Poi la preservazione dell'ambiente come la protezione delle foreste e la lotta alla desertificazione che è davvero interesse globale. E poi ancora il sostegno alla democratizzazione e infine la cosa più importante, la difesa della pace. Su tali sfide è necessario, dice ancora il Cardinale, un impegno ingente e durevole dell'Europa in Africa. Ne va del nostro futuro comune. L'Europa per rinascere dal suo egoismo ha bisogno dell'Africa, dice ancora l'Arcivescovo, e reciprocamente l'Africa ha bisogno dell'Europa per curare le sue ferite. Si parla tanto di diritti nel nostro mondo, afferma il presidente della CEI, ma limitandoli a se stessi e al proprio piccolo mondo. Malgrado tutto, e nonostante le forze che vi si oppongono, la democrazia è una profonda aspirazione degli africani, una loro attesa. In questo ci può essere una avventura comune. La democrazia, ha ricordato ancora il Cardinale, non è fatta solo di elezioni, ma anche di separazione dei poteri, indipendenza della magistratura, libertà civili garantite, Stato di diritto, libertà di stampa e di associazione.